La tua volontà, come in cielo e così interna, daci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci ridurre in testazione, ma riferaci dall'amore. Padre o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Prega per noi, o Madre Santa Chiara, perché siamo resti segni delle promesse di Cristo. Tanto a pagina 15. Per noi, o Madre Santa Chiara, perché siamo resti segni delle promesse di Cristo.